Ciao a tutti! Come state? Sono Melissa Lamatta. Poche settimane fa sono stata a Roma con Kelly Medford, una mia amica e pittrice americana che abita lì e adesso chiamo Roma la sua casa. Nonostante l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia quest'anno, il mio gruppo ed io siamo riusciti a trovare alcuni posti freschi e ambrosi come questo per disegnare e per dipingere, usando i nostri acquarelli per catturare le nostre impressioni di paesaggi urbani di Roma. Kelly ci ha guidato ad alcune parti molto interessanti delle città che pochi turisti mai vedere. Abbiamo disegnato un obelisco egiziano nei giardini di Villa Celamontana e l'arcate di una porta romana nel parco nascosto dietro il Colosseo. Un altro giorno ci siamo seduti sulle panche vicino a Larghetto, nel giardino di Villa Borghese e lì abbiamo disegnato barche e fontane, concentrandoci sulla chiara scura, le ombre viola e le macchie bianche del sole caldo pomeridiano. Abbiamo passato dei bei momenti osservando senza fretta tutti gli elementi artistici di Roma, grandi e piccoli. La cosa importante da ricordare è che non c'è bisogno di essere un artista professionista per partecipare ad una delle lezioni di Kelly. Infatti, quello che lei insegna è un nuovo modo di vedere. Se ci concentriamo sull'ambiente intorno a noi, osservandolo intensamente possiamo vivere più nel momento. Quindi anche il più piccolo degli schizzi cattura e registra uno stato di animo e un momento speciale. L'arte non è solo qualcosa per gli individui artisticamente dotati, piuttosto si tratta di un'esperienza personale, qualcosa che ognuno di noi può sviluppare e goderne. È stato molto divertente lavorare insieme, imparando come usare gli acquarelli e le varie tecniche per fare gli schizzi. All'inizio di ogni lezione Kelly ci ha dato sia una dimostrazione che alcuni esercizi per aiutarci a sfruttare i nostri lati creativi. Poi ci ha lasciato i libri di scegliere una scena da catturare nei quaderni che lei ha personalmente rilagato a mano. Alla fine di ogni lezione di arte abbiamo mostrato i nostri disegni agli altri e abbiamo apprezzato i vari stili e le tecniche individuali. Ero entusiasta di partecipare a queste esperienze con altre persone così creative e di talento. Sono stata anche molto felice di avere un ospite speciale. Anche Lucrezia di Learn Italian with Lucrezia è venuta a trovarci per partecipare a una delle nostre lezioni con Kelly. Se desiderate maggiori informazioni sulle lezioni di arte di Kelly Medford a Roma, potete contattarla attraverso il suo sito. Vi lascerò le informazioni sul mio sito. Non c'è niente più divertente che imparare l'italiano e disegnare in Italia. Dai, mettete in contatto il vostro lato creativo. Vi diventerete. Alla prossima! Ciao!